Nuovo anno e nuove ambizioni dopo la pausa per le festività e un nuovo brindisi quello che è agli ordini di Mr. Enzo Maiuri riprende gli allenamenti in vista della prima giornata del girone di ritorno nel match casalingo di domenica contro il Trani a indossare la casacca bianca-azzura potrebbero esserci tanti dei nuovi acquisti voluti dalla società per rilanciare le ambizioni in promozione di una squadra si distante dalla vetta a ben otto punti eppure in grado per storia, valori tecnici e pronostici di vivere una seconda parte del torneo all'insegna del ben risultati in attacco a far compagnia al Reduce Galetti il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta oltre a Corvino la fine dell'anno ha portato nel capoluogo messapico due pezzi da 90 come Vincenzo Chianese e Stefano Morello un reparto offensivo che se da un lato è capace di terrorizzare le difese avversarie grazie anche all'apporto del solito Mignogna dall'altro promette di essere ben supportato da un centrocampo affidabile grazie anche all'acquisto dell'esperto Zaminca è una difesa solida con Capitano Taurino che avrebbe trovato in Miale il suo partner ideale insomma a dispetto della crisi societaria di novembre il presidente Giuseppe Roma ha voluto fare le cose in grande mettendo mano al portafoglio per costruire una squadra che alle prime della classe non ha davvero più nulla da invidiare